Il grande blef sulla ASL 1, rete ospedaliera in provincia dell'Aquila con pochi posti letto e mal distribuiti. Una denuncia fatta dal consigliere regionale pentastellato Giorgio Fedele che parla di depotenziamento del territorio. Per lui la rete ospedaliera improntata da Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia è una sciagura. Intanto piano sanitario e rete territoriale sono al palo. Il documento mandato in visione come bozza per lui non lascia dubbi. I 207 posti letto per Fedele sono stati ripartiti in modo inaccettabile tra le quattro ASL. Quella 1 arriva ultima con soli 15 posti letto in più. Numero esiguo rispetto alla ASL Lanciano-Vastochieti con 91, la ASL di Pescara con 54 o Teramo con 47. È inaccettabile, il nostro servizio sanitario provinciale è da anni che si trova in sofferenza. C'è un'ammissibile disparità di servizio fra le aree interne e tutto il resto della costa e questa bozza non fa altro che aumentare questo divario. Però i cittadini non esistono cittadini serie A e serie B. Esistono solo cittadini con diritti uguali, a prescindere dalla provincia di residenza. Il nostro obiettivo è che quantomeno i posti letto programmati per l'ASL 1 vengano quadruplicati. È il minimo essenziale. Oltre ovviamente alla necessità di una loro ripartizione, secondo il fabbisogno reale, dei territori e una valorizzazione delle eccellenze che nonostante tutto ce ne sono e ce ne sono molte, tra cui ad esempio la neurochirurgia dell'Aquila e l'Astroc Unit dell'ospedale di Avezzano. L'Aquila segna meno 5 posti, Casta di Sangro meno 7, Avezzano 5 in più di cui 2 sono stati sempre attivi sul Mono e Tagliacozzo più 10 e più 12 ma sono posti di riabilitazione. Una bozza insomma che non piace quando invece andrebbero anche valorizzati i reparti di eccellenza. Fedele chiede infatti che l'Aquila sia riconosciuta come centro regionale per la cura del Parkinson con l'attivazione di un'unità operativa semplice. Per Avezzano invece la Stroc Unit va individuata come unità di secondo livello. Stessa situazione per la rete politrauma. Per il consigliere bisogna dare un futuro certo poi ai presidi di Tagliacozzo e Pescina. Tagliacozzo non è più riconosciuto come presidio ospedaliero, nonostante la conferma di due moduli di riabilitazione. Uno dei due è declassato a unità semplice ripartimentale. A Pescina la situazione è peggiore. Nella bozza si prevede un reparto di lungoteggenza per deconcessionare Avezzano ma nei fatti si sposta solo il reparto già presente nel nosocomio di Avezzano. Il termine della fine dello stato di emergenza è fissato per il 31 luglio. La ASLU, non ricorda Fedele, deve riattivare tutti i servizi che c'erano prima del Covid riportando i sanitari spostati per far fronte alla pandemia dove erano assegnati in precedenza. Inoltre l'interlocuzione con l'assessore Verì non si è mai sottratta al confronto con le opposizioni, dice, ma su questo punto ha fatto parlare i due tecnici e siamo delusi dal comportamento.